Un nuovo short master che si propone di formare coloro che sono chiamati a svolgere compiti organizzativi e gestionali all'interno del sistema scolastico è stato organizzato dal Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente e Culture dell'Università degli Studi di Bari. È rivolto a tutti i laureati e in particolare a coloro che parteciperanno al concorso per dirigente scolastico. La flessibilità necessaria per far fronte alle sfide educative di oggi spinge i sistemi verso una maggiore delega di responsabilità agli istituti scolastici. L'aspetto chiave di questo processo di cambiamento in corso è l'autonomia scolastica che trae le sue premesse dal principio di sussidiarietà, dalla ridefinizione dei livelli di governo dell'intervento pubblico, dalla semplificazione amministrativa e si inserisce nel più vasto processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo. È in questo contesto che si inserisce questa nuova impostazione di preparazione al concorso per dirigenti scolastici. Un master con un numero ridotto di ore per venire incontro alle esigenze di formazione in vista dell'imminente concorso per dirigenti scolastici. Il master è aperto anche comunque ai laureati perché contribuisce a raggiungere quei crediti formativi che poi possono essere utilizzati per le graduatorie degli insegnanti, oltre che per la graduatoria per il concorso a dirigente. Il master si sviluppa su 100 ore. Di queste 100 ore però la maggior parte sono dedicate sia alle lezioni frontali, ma con una formula innovativa. Siccome il concorso prevede o prevederà la risoluzione di quiz, le lezioni saranno finalizzate alla risoluzione di questi quiz. Quindi con una formula didattica particolare si cercherà di coniugare la formazione teorica con quelle che sono le capacità di apprendimento dei corsisti in relazione alla formulazione dei quiz, che è una tecnica un po' particolare. Il corso si articola nelle aree previste dal bando di concorso, che sono prevalentemente l'amministrativo contabile, l'area psicopedagogica, e poi c'è quella della gestione della scuola. Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale dell'Università di Bari www.uniba.it